Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo, ci aspetta un martedì caratterizzato ancora dalla persistenza di una vasta area anticiclonica ben strutturata sul Mediterraneo centro-occidentale che interessa anche buona parte d'Italia, anche se con cielo però non sempre sereno. Lo notiamo anche dal dettaglio relativo alla nuvolosità, con questi nuvolamenti irregolari in arrivo da nord che si addenseranno soprattutto sui settori alpini di confine, qui non si escludono anche deboli nevicate. Addensamenti di tipo marittimo interesseranno invece l'alto versante tirrenico con qualche piovigile non esclusa sulla Liguria, lo notiamo anche nella grafica successiva, infatti sono attese deboli precipitazioni lungo la costa Ligure centro-orientale, nuvolosità sparsa soprattutto sui versanti tirrenici ma in un contesto generalmente asciutto. Qualche banco di nebbia interesserà la Valpadana a nottetempo e al primo mattino, le temperature invece non subiranno particolari variazioni da nord a sud della penisola.